In questo episodio speciale vedremo una selezione con il meglio della stagione del nostro programma sulla tecnologia. Ci vediamo dopo la sigla. Vi lascio alla mia collega e a Gabriele Gobbo. FWG Tech. La tecnologia in tv. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. In questa speciale puntata The Best Of abbiamo selezionato il meglio di questa stagione. Assieme a Gabriele Gobbo scopriremo la tecnologia e il digitale, coadiuvato dai suoi ospiti. Andiamo subito a incominciare con il primo estratto di alcune settimane fa. Cosa cambia? Insomma, adesso che abbiamo sorpassato di tanti anni l'introduzione di internet e abbiamo tutto il sapere dentro una tasca. Perché oggi è sempre più importante usare internet per farci conoscere dalla grande azienda al piccolo albergatore? Sì, assolutamente. Ormai internet, come ben detto, lo utilizziamo tutti i giorni. Specialmente in ambito turistico, quando noi scegliamo di andare a fare una vacanza. Ora il problema di fondo è che le imprese e le istituzioni devono più o meno iniziare un percorso di promozione turistica del tuo territorio. Quindi affacciarsi a internet e comunque a tutte queste nuove possibilità che offre oggi Web, bisogna farlo con consapevolezza e comunque guidati da chi oggi fa questo di mestiere. Quindi quello che è il mio consiglio sostanzialmente è avvicinarsi un pochettino a questo mondo che si sta un pochettino evolvendo come il travel blogger, per quanto riguarda l'ambiente turistico ovviamente parliamo, quindi travel blogger, riviste del settore e perché no influencer, cercando di capire bene chi può essere la scelta migliore per il target di persone che vogliono andare a raggiungere, sia per quanto riguarda un'impresa, sia per quanto riguarda un'istituzione. Diciamo, guarda, ti interrompo perché hai aperto tre filoni molto interessanti. Il tempo corre, quindi io andrei subito dentro, anche perché abbiamo capito, internet lo usiamo, forse la differenza di oggi è che è diventata la super normalità a qualsiasi età, mentre prima doveva arrivare a casa, accendere il computer, avere internet, il mod, insomma. Adesso invece subito, siamo abituati a farlo subito, quindi è la normalità. E poi abbiamo il discorso che magari tanti sono su internet, si fanno pubblicità su internet, ma non è il giusto modo. Ma partiamo, hai fatto tantissimi, hai aperto tre scenari molto interessanti. Inizierei dal più peperino, gli influencer. Sì, 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 gli influencer sono sostanzialmente quelle che oggi noi abbiamo più a portare di mano perché Instagram, tutti i social network, parlo di Instagram perché è probabilmente diciamo quello più rappresentativo, no? Sono intendo il nostro smartphone che ci consigliano qualsiasi cosa, dall'acqua da bere piuttosto che la bibita particolare o perché no il locale dove andare a mangiare piuttosto che l'albergo dove soggiornare sostanzialmente, no? Tutte queste persone che hanno un bel po' di seguito, quindi parliamo di migliaia di follower, che pendono le loro labbra perché magari diciamo, l'ha fatto tizia, ecco, deve essere sicuramente qualcosa di importante, qualcosa di interessante. Ma servono milioni di follower o usiamo anche dei micro influencer con qualche migliaia? Cioè non è che bisogna spendere un milione di euro, no? Cioè possiamo usare anche quelli più vicino a noi. Non tutti hanno la fortuna di avere Chiara Fiatagni che viene a farsi il matrimonio a noto o a passeggiare agli uffizi di Firenze, però possiamo utilizzare questi micro influencer magari molto verticali, più che diciamo molto ampi come la Fiatagni per esempio, faccio un nome e non credo che si offendano tanti altre persone. Quindi se utilizziamo degli influencer molto verticali con dei numeri che in ogni caso vanno a colpire un target ben preciso, sì, può essere utile per il territorio da promuovere piuttosto che l'albergo o l'attività, in questo caso turistica. Ottimo! Adesso vediamo alcuni minuti di una interessante puntata di qualche tempo fa. Oserei quasi utilizzare il termine pensiero computazionale. Diciamo così, ho un problema, cerco di capire l'approccio, trovo la soluzione che si fa nella matematica, si fa nella geografia, si fa se devi viaggiare, si fa nell'italiano perché non riesci a trovare la frase giusta. Praticamente se iniziamo a essere questo coding, che in realtà vuol dire generare codice grezzamente detto, ma si intende tutta una filosofia. Insegniamo ai nostri ragazzi l'approccio del, useremo tanti termini inglesi, problem solving, e cioè l'approccio a risolvere il problema in tutti gli ambiti. E questo rimane anche dopo aver imparato a fare app per chi lo vorrà fare in futuro. Potrebbe essere questo un po' la chiave di lettura, Luca? No, hai totalmente ragione. Hai detto bene processo computazionale, ma soprattutto problem solving. La parte chiave è problem solving. Ma problem solving, perché io ti dicevo prima ci serve in tutte le sue sfumature, ci è utile in tutte le sue sfumature? Perché immagina anche un manager, quindi una persona che magari non è detto che abbia a che fare con il digitale, magari un manager addirittura di una vecchissima industria, la cosiddetta old economy, usando un inglesismo. Quando lui ha delle scelte dinanzi a sé, scelte commerciali, scelte di gestione, qualsiasi tipologia di scelta, lui sta applicando comunque un problem solving, si sta comportando, andando a risolvere, a codificare il suo problema. Quello che magari noi facciamo con un'app, come dicevi tu, in realtà queste persone, quando loro ce l'hanno di fronte a sé il problema, loro dicono il problema è questo, analizzano il problema, capiscono com'è il problema, provano a fare la soluzione, magari si accorgono che quella soluzione non è perfetta, la modificano, che non è altro quello che succede quando nel codice ti accorgi che una cosa non è perfetta, la modifichi, la correggi, la evolvi. Quello è il coding, quello è il problem solving, e in tutti gli ambiti della nostra vita. Pensa anche solo al tema di quando si dice l'intelligenza artificiale, le scelte, il machine learning, terminologie di questo genere, ma le poniamo a noi quando usciamo di casa. Quando noi diciamo, devo portare mio figlio a scuola, poi devo andare a prendere la spesa e devo fare quello. Cosa succede? Stiamo esattamente ragionando nella stessa identica maniera. Diciamo, se prendo quella strada faccio prima, così ci metto due minuti meno, porto a scuola, faccio quello e faccio quello. Alla fine cos'è? È intelligenza artificiale? In realtà sì, stai affrontando un problema e lo stai risolvendo. Per non parlare, poi te la lancio e poi vedi tu, il machine learning lo vediamo con i nostri figli quando crescono, quando imparano a camminare o a parlare, cosa stanno facendo alla fine? Machine learning. Guarda, l'approccio che hai portato ad esempio, secondo me, calza a pennello, anche perché ogni giorno le sfide della vita ci mettono di fronte a delle scelte e più siamo in grado di computazionare, diciamo così, i dati, il nostro possesso. La filosofia, secondo me, è questa. Al di là, se dobbiamo dare gli smartphone, se dobbiamo dare gli iPad, se dobbiamo dare la grande notizia, quello stato ha vietato, insomma, titoli di giornale che non servono a niente. Dobbiamo capire che poi, tra l'altro, dobbiamo imparare a risolvere i problemi, certo con la matematica, imprescindibile tutto quello che si fa oggi, ma, visto che viviamo nel mondo della tecnologia, tanto vale utilizzarla per gli insegnamenti e abbiamo un approccio più veloce, perché la tecnologia ci ha messo di fronte alla necessità di fare delle scelte in pochissimi minuti, anzi, in pochissimi secondi, o è A o è B, che poi, ricordi di programmazione, quasi tutti i software si basano proprio sulle scelte o sulle variabili, addirittura. Se l'utente pigia lì, fai quella cosa. Se l'utente pigia lì, allora fai un'altra. Quindi, la programmazione è proprio come la nostra vita. No, hai totalmente ragione, ma io ci penso ogni volta, perché spesso sento che la gente ha paura del digitale, ha paura del coding, dice, ah, i nostri figli si staccheranno dalla natura, si staccheranno dal mondo, ma in realtà non si viene a capire che il digitale, come il coding, in realtà ci permettono di avvicinarci di più, ci permettono, ad esempio, di risolvere i problemi che ha la natura, causati, peraltro, bisogna essere onesti, dalle generazioni precedenti, i problemi che ci circondano nel mondo. Fermo, 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 fermo. Le generazioni precedenti saremmo anche io e lui, vista l'età. Però la frase è buona. Sì, ci ho giocato un pochino, però è vero, perché a volte accusiamo sti ragazzi, ma sti ragazzi, se noi stiamo a osservare, quando viene usato bene il digitale, quando viene usato bene il coding, in realtà è un'arma per migliorare l'apprendimento, ma migliorare la vita intorno a noi a 360 gradi. Tutto chiaro? Continuiamo con la selezione. Ecco a voi le dichiarazioni di un recente ospite. La digitalizzazione, questa cosa che sembra che devi comprare il robot per la fabbrica, eccetera, invece no. Anche il negozio di provincia o il panettiere o, perché no, lo psicologo, o qualsiasi tipologia di attività, anche piccola, può avvantaggiarsi, digitalizzando, ma soprattutto automatizzando i processi più noiosi, dagli appuntamenti a ricevere foto, a pubblicare delle cose su internet. Questa anche è digitalizzazione. E oggi si può fare davvero con strumenti che troviamo online. Bernardo, ma è davvero così? Noi andiamo online e troviamo dei sistemi che mettiamo assieme, tipo puzzle, e fanno quello che vogliamo noi? Più o meno, più o meno così. Nel senso che davvero è facile, non è una cosa complessa, complicata e difficile, né dispendiosa né difficile da fare. Occorre avere un po' di attenzione. Molti strumenti che già probabilmente utilizziamo hanno all'interno delle automazioni. Facciamo un esempio. La posta elettronica, Gmail. Io posso, per esempio, automatizzare l'inoltro di mail. Cioè dire, tutte le mail che provengono da un indirizzo o che contengono un allegato, inoltre mele automaticamente a un altro indirizzo. Anche se non sono online, anche se non sto controllando la posta. Ma è pazzesca questa cosa. Cioè, è pazzesca. Nel senso, i più esperti lo sanno. Chi è a casa usa la sua Gmail normale. Ma è pazzesco pensare che mentre noi non ci siamo, il nostro software email fa qualcosa. Ma può addirittura filtrare per parole chiavi, mettere nelle cartelline, tenerci organizzata la posta elettronica o sparare i messaggi agli altri. Ad esempio, se siamo di più nel negozio, posso dire, manda questo tipo di mail alla segretaria, questo tipo di mail alla dottoressa e fa tutto in automatico. Ma scusa, questo è già lì. E poi, ad esempio, cosa possiamo fare con dei sistemi che ci sono online, spesso gratuito o dai costi degli abbonamenti abbastanza irrisori? Certamente, hai parlato di costi, si possono fare tantissime cose. Per esempio, si possono automatizzare tantissimi processi. Processi anche di realtà piccole. parlavi di psicologi, professionisti, anche singoli lavoratori, freelance o consulenti. Si possono automatizzare, per esempio, torniamo alla posta elettronica. Tutte le volte che ricevo una mail da un indirizzo con un allegato, salvami questo allegato in una cartella di Google Drive, il cloud di Google dove teniamo spesso le nostre foto e i nostri file. Oppure, utilizza questa applicazione per mettere in contatto due applicazioni diverse. Un calendario, il Google Doc, i fogli Excel o fogli di calcolo. Sembra complesso da dire, ma ti assicuro che è veramente facile da pensare, la creatività e la fantasia che gli imprenditori o i professionisti hanno, ma anche da mettere in pratica. Perché l'interfaccia, cioè quello che io vedo quando utilizzo questi software, non è complessa, non sono tante righe di testo incomprensibili o codici incomprensibili, ma hanno un'interfaccia visuale, quindi ci sono degli schemi visuali. Io collego via via le applicazioni e c'è un processo guidato che mi aiuta nel, diciamo così, mettere in piedi queste piccole, medie e grandi automazioni. Guarda, a me viene in mente di fare un esempio, io vado un po' a caso. Poi è vero, sono visuali e va, insomma, basta avere un po' di pensiero computazionale, spesso colleghiamo le cose anche tirando delle righe. Ad esempio, se succede una cosa, allora fai succedere quest'altra. Insomma, è una specie di filo che collega tantissime cose. Ad esempio, dicevi, ricevo dal mio fornitore un email con un allegato, magari che pesa più di un mega, so che è una foto. Dico, automatizzo che questa foto vada nel mio cloud, in una cartella su internet di foto. Poi dico al mio sito web, quando trovi una foto lì, pubblicala in questa area della vendita di scarpe, perché vendo scarpe. E poi dico un'altra applicazione, quando trovi una nuova scarpa sul mio sito internet, pubblica un po' su Facebook. Insomma, collego con un fil rouge tantissime cose a cascata, che possono essere infinite. Davvero argomenti molto interessanti. Una puntata ricca di informazioni. Siamo giunti al termine. Ringrazio la mia collega per averci presentato gli estratti. Dovete sapere che siamo entrambe presentatrici virtuali generate dall'intelligenza artificiale. Ringrazio soprattutto Gabriele Gobbo, l'esperto che ogni settimana vi spiega la tecnologia in televisione. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di FWG Tech. Arrivederci. FWG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube e tutti i social network. www.fwgtech.it